Una delle domande più frequenti è se è possibile dimagrire in poco tempo. In realtà la risposta è molto semplice. Ognuno prima di tutto ha bisogno del proprio tempo, dipende molto dalla morfologia, dipende molto dal proprio metabolismo, dal proprio stile di vita. Cominciare a bere molta acqua, in abbinamento abbiamo noi delle tisane che ci possono aiutare a lavorare nello specifico negli inestetismi, assumere degli alimenti corretti per la propria problematica e si comincia a perdere nell'immediato i primi chili. È ovvio che ci vuole del tempo per raggiungere l'obiettivo poi desiderato. Con l'aiuto e il supporto dei nostri trattamenti in cabina tutto diventerà più semplice e arriverà anche la perdita dei chili successivi.